E adesso vi parliamo di Uomini e Donne del Trono Over. In quanto Gemma Galgani e Sirius sono stati pizzicati a giro per le strade di Roma mano nella mano, o meglio gomito a gomito diciamo, dato che insomma sapete benissimo che adesso non si può più fare. E quindi diciamo pure che magari è successo qualche cosa. Questa foto infatti risale a questo fine settimana. Da cui si intuisce chiaramente che non solo la storia fra di loro non è finita, ma sta andando avanti. E insomma dopo queste foto, sembra abbastanza evidente che i rumors secondo i quali Gemma Galgani e Sirius Nicola Vivarelli sarebbero usciti insieme dal programma, sono confermate. Gemma Galgani e Sirius Nicola Vivarelli a passeggio per Roma. Non lo so sinceramente non so nemmeno io come giudicare questa foto. Quello che è certo è che non si tratta di one photo di un fotografo professionista. Magari tratta da un video non so dirvi sinceramente. Ho visto altre foto e sinceramente sono loro? Su questo mi sento abbastanza sicura. Mi dicono che non c'erano le telecamere della redazione. Insomma era un'uscita a due di una coppiettina come tante. Nonostante quanto dichiarato da Biagio Danelli sul fatto che Nicola Vivarelli in realtà sia fidanzato fuori, a questo punto. Gemma e Sirius hanno deciso di andare avanti comunque. Si intuisce il mio scetticismo su questa coppia non è vero. Grazie a tutti.